Prima udienza oggi a Palermo del processo per l'uccisione di Carmela Petrucci, la 17enne assassinata il 19 ottobre scorso in viauditore, nel portone di casa da Samuele Caruso, ex fidanzato della sorella Lucia. Presenti in aula, tra gli altri, anche il sindacolo Luca Orlando e l'assessore Agnese Ciulla, oltre ai familiari di Caruso e a quelli di Carmela, che al termine dell'udienza sono stati fatti passare dall'uscita secondaria. I due rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno presentato la Costituzione di parte civile, che, hanno detto, è un atto di solidarietà e vicinanza alla famiglia Petrucci, ma è soprattutto un atto di civiltà. Un atto formale che conferma quanto è nel DNA della nostra amministrazione, con rifiuto di ogni violenza di genere, di ogni violenza. Nell'atto di Costituzione, curato dall'avvocatore comunale ed accettato dalla Corte, si fa esplicito riferimento alle tante attività che il Comune ha svolto e svolge, anche come parte attiva della rete nazionale e locale antiviolenza, e per l'assistenza alle donne vittime di violenza. La difesa di Samuele Caruso si è però opposta alla Costituzione di parte civile del Comune di Palermo. A sollevare la questione, nel corso dell'udienza, è stato il legale di Caruso. Adesso spetta al GUP di Palermo Daniela Cardamone, davanti al quale si è svolta l'udienza, decidere se accogliere o no la Costituzione di parte civile del Comune. L'udienza si è svolta con il rito abbreviato. L'imputato, Samuele Caruso, deve rispondere non solo dell'uccisione di Carmela Petrucci, ma anche del tentato femminicidio della sorella Lucia. L'imputato, Samuele Caruso, deve rispondere non solo dell'uccisione di parte civile del Comune.